un caro saluto da diego fusano un caro saluto a tutti è uscita domenica sul sole 24 ore l'osservatore romano della globalizzazione turbo capitalistica una recensione se così vogliamo nobilitarla del mio libro la dittatura del sapore contro il gastronomicamente corretto edito da rizzoli la recensione barra stroncatura forse sarebbe meglio dire così è firmata da un certo luca cesari che devo dire senza rivelare grande perizia filosofica e culturale ha un unico obiettivo quello di stroncare il libro provando a ridicolizzarlo a liquidarlo con la ben nota categoria di complottismo ora non me ne stupisco anzi mi stupisco che abbiano parlato del mio libro dato che di solito i padroni del discorso preferiscono silenziare ogni idea vagamente dissonante in questo caso hanno scelto di parlarne prendendole in esame ovviamente distorcendo completamente il significato delle parole dei testi e praticando la ben nota reduxio ad absurdum ora non mi stupisco che ai padroni del mondo e ai padroni del vapore non piaccia il mio libro anzi lo tolgo a motivo di merito mi stupirei se mai se piacesse se i padroni del discorso del sole 24 ore dicessero che bello il libro di diego fusaro allora io direi in risposta che cosa avrò mai detto di sbagliato invece per fortuna non è piaciuto al sole 24 ore e non ce ne stupiamo come può piacere il nostro discorso di critica del turbo capitalismo e della globalizzazione tecnonichilistica ai padroni ricordiamo l'apertis verbis il sole 24 ore è il giornale dei padroni e dunque nulla questio sul fatto che il nostro discorso a loro non piaccia luca ceseri dice di aver letto il mio libro lo ringrazio non ho motivo di dubitare che glielo abbia letto qualche motivo di dubitare invece ho sul fatto che egli possa averlo capito poiché dal suo discorso se così vogliamo nobilitarlo emerge una vuota profondità direi meghelianamente si limita a ripetere pavlovianamente che il mio un libro complottista dobbiamo immaginarli ormai questi araldi del pensiero unico come manichini che ripetono quasi ossessivamente per automatismo tecnico le parole della neolingua complottista sovranista populista senza mai dar prova di una capacità di giudicare autonomamente in ogni caso ringrazio luca cesari che si è preso la briga di parlare se non altro del mio libro in un organo di stampa padronale quindi a maggior ragione ci fa piacere che anche dalla parte dei padroni si parli sia pure solo per stroncare decostruire il nostro lavoro in ogni caso come direbbe don chisciotte ci abbaiano sancio segno che stiamo cavalcando secondo il sole 24 ore dunque mangiare grilli larve insetti e cosa giusta e buona ed è complottista chi prova a metterlo in discussione nel novi subsole il pensiero unico non è un pensiero ma è una clava morale che viene utilizzata per colpire chiunque provi a pensare diversamente